Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, quest'oggi King of the Hill, ovvero il re della montagna Modalità in creativa di Fortnite, siamo in 4 Ovviamente fa punti e vince chi riuscirà a stare per più tempo all'apice di questa montagna e ci dovremo massacrare tra di noi Mi immagino urla, tryhard, cose brutte, insomma tutto quello che accade di solito su Fortnite Penso che sarà tutto messo, compresso bene bene in questo video, quindi preparatevi perché sarà divertente Mi raccomando ricordatevi, supporta creator step2317 in our shop Se volete vincere qualche partita ogni tanto perché avete bisogno del mio potere super mega incredibile e non la iniziamo Non so come funziona, via! Steffo ma perché ci hai messo in questa mappa che non so come funziona? Allora sto prendendo danno di zona Anche io è E ho armi bianche, raga bisogna schifar cose, avete visto le barriere in giro? No ragazzi io sto sbagliando strada, credo Boh io credo di essere al centro in alto, vuoi? Non lo so, io sto prendendo una scala ma poi c'era un dirupo Ah qui Ah si fa punti quando sta il cielo, ho capito Bello, 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 abbiamo capito adesso loro ragazzi Ma no raga, beh beh io sono confuso Porca miseria ho panicato Perché è l'unico che capisce con me Stavo cercando di capire la mappa Perché ne ho messo punti e poi penso Ma non è difficile Rise of the King, devi stare al centro Sono il re Io ho 25 punti e almeno ce li ho eh Non vedo niente Neanche io Oh raga io 15 punti li ho fatti, grazie a tutti Io non vedo Ma guarda 103 Io non vedo niente Ragazzi cosa significa all'avviso che il centro è stato aperto? Ma non lo so Non lo so ragazzi Wow Ma non ho capito cosa sto succedendo Non lo so neanche io Sono molto confuso Ma ragazzi Steph è un mostro oggi Ma non l'ho capito Cioè c'hai le inbot Fede Brava Fede Allora io sono andata al centro ragazzi Ho preso l'EC4 E mi ha direttamente teletrasportato al top della montagna Power weapon has grabbed Eh vedete che compaiono quindi delle cose Io sono confuso raga ve lo giuro Ah adesso c'è il power weapon Chi è? Eh scusami No 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 aspetta mi devo sistemare Io non sto capendo Io devo uccidere Steph Ah state anche alleando Ti mando si Porca miseria Raga oggi Steph è un coccodrillo Vabbè ti basta però Ma ti faccio È matto Non ho capito cosa è successo Cioè dovresti trattare un po' meglio i tuoi amici Steph Ma mi spiegate solo i 15 punti Ma voi Io capisco perché costruisci tu Steph Perché al centro ogni toti ponono 50 di legna Ah Ho trovato l'arma della vita Qual è? Aspettate Ma perché tu non prendi danno? Perché io esplodo e tu no? Oh Sono morto Possiamo adesso Sì vabbè questo con la doppietta Ma dove sono state rilasciate? Steph viene al centro Viene al centro Le armi OP scusate Al centro Steph Ma il centro non è dove ero io? No Il centro a metà Non è il top È il centro Non ho capito dov'è Ci porto io appena muoio Aspetta Sto ricaricando No un colpo No Steph da dietro No Non l'hai fatto Non l'hai fatto Non l'hai fatto Io sono arrabbi No ragazzi Steph è veramente Ma dove è il centro? Sei morto Steph? No È sotto Se è fuori te lo faccio vedere No vabbè sono andato in giro Steph è giù Devi andare al centro Vabbè Ci sei? Ciao Sì Qui Corri Corri Ma dimmi sotto la montagna E ci sono Ci sono Le armi OP E poi vieni teletrasportate Immediatamente sopra E dove le prende le armi OP? Qua al centro Però qualcuno le ha prese prima di noi Però sono qua E vedi che qua poi non prendi neanche danno Renegade 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 E tu vai Ciao Ah Capisci? Ho capito Bravo Steph che finalmente ha capito Io rimango qua a aspettare Mi date un'arma Mi date un'arma Oh Che schifo Oh Cagli Mi è ucciso da dietro prima Ho capito Io ho capito Io ho un'arma segreta ragazzi Aprite le porte Aprite le porte Niente No vabbè ragazzi Io continuo a farmi esplodere da sola È rotto di suo Se poi c'ha anche l'arma rotta Io non gioco Basta Ma la perdo se muoio no? Ma porca miseria Sì si muoio sì Se muoio sì Steph mi va un po' di punti Ma che fortuna Marco Non c'ho parole No chi è? Chi è il maledetto? Ah No Madona Ragazzi Io provo uccidere step Poi arrivate voi Mi mi saltate Io non so Qua è tutta colpa della vita Sono d'accordo Sei d'accordo Sei cattivissimo Sei Comunque mi ha messo ragazzi Il pompa sull'uno ogni volta Mamma mia Mi dà un fastidio Marco è rabbiato com'è No Steph io sono mai stato arrabbiato con te Nella mia vita Eh ma un po' Cioè mi stai un po' guardando male Allora Se io te fossimo uno davanti all'altro Potrei dire Saremente guardando male Cosa? Se non mi potevi prendere Ma come ti ho fatto da boleggia Ma no C'era il muro C'era il tetto Tu eri sotto il tetto Vabbè ragazzi Ma con il combat Cosa vogliamo fare ragazzi Cosa vogliamo fare qua? Oh raga Non lo so Io sono molto triste Io avevo il pino Vanta Ragazzi È ovvio Non ho combinato nulla Ma poi è vero il combat Io dico Ma così prendo punti? Ah no Ok Chi è dentro? Nessuno Beh devi tu? Stavo lasciando a fare punti Ahia Ho preso Non è che materiali Comunque l'abilità Sto a scrivere le barriere Per non prendere danno È una cosa molto Feri ma Ma feri Ho provato Ma chi è? Ho provato raga Ho provato Il pompa sull'uno ragazzi È un furto È un furto Io cerco di sistemarmi L'armi al volo Mi dimentico ogni volta Non è un casino Vai subito su Io ti giuro Steph Un giorno ci rivedremo Ok Non dico più nient'altro Dai Ma basta Marcino Ma basta Mi aggiungerei Hai fatto un sacco di punti Accontentati nella vita No vabbè ma No basta Sono d'accordo Marcin voglio urlare con te Raga L'ho sentito L'ho sentito Anche io Ho sentito proprio l'urlo A casa mia Sì ma che io l'ho sentito Ma l'ho sentito Ma l'ho sentito Ma l'ho sentito Ma l'ho sentito No non ho parole No Ragazzi Ci cambiiamo qua Allora tu mi assalti con la Gerazzi Nel 2020 Basta raga basta Io odio Sei imbarazzante Io odio Fai fai ti prego Fai questi quattro Bella questo Dai Mi sono fatto saltare in aria E ovviamente c'è Steph lì Che adesso Sempre Lui è sempre il momento giusto Mamma mia Steph Se ho la mia rivincita Te lo giuro Davvero? No può essere Tutti zitti Dai Ma dove sei? Ma dove sei? Ma me è nascosto secondo me No ragazzi È nascosto negli angolini Dai Ma io guardo veramente Non vuole fare gli ultimi 60 punti Avete capito? No no Ma guarda Io veramente guardo Non mi scopo Bene Vai via Vabbè 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 Capisco Calmi Non c'è neanche l'arma OP Io c'è volcom Dorato raga Però volevo fare punto Sì Io ho sempre le armi messe malissimo E quindi mi incasino nel cambiare le armi C'è sempre Tipo che voglio mettere una cosa Invece no Me ne capita sempre un'altra Ma Chi è che ha messo il rift? No che faccio vedere Il cane Cioè per forza eh Sì Facile così Non avevo batterioli Faccio una kill Bravo Stef Grazie Grazie No 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 Stef non sei bravo Non sei bravo Ma però mancano 10 punti Le stelle seconde Attenzione No Tanto guarda Non mi interessa nulla Ma cosa? No non mi interessa nulla Troppo difficile Sto troppo stressata Ma cosa? Mi sento male Oh perché mi stanno uccidendo qui? Che ho fatto? Io mi prendo questa arma No sei molto antipatico Però non dire altro di poco family friendly No Fede no Non è vero Non parlo più E insomma E insomma Allora Non mi ero accorto che non avevo legna Oppse te Mi dispiace per te Anch'io sono dentro senza legno Mannaggia Corro Corro Corrimi e fra Fede però è scappata No Ferre già mi sei andata Fino alto Ma perché ogni volta che arrivo qualcuno ha appena preso l'arma Mannaggia Karma No è giusto Double points No vabbè questo vince Dai raga Raga Double points Stef ti metti dentro Questa è pesante Ma per la morta Lui ci vuole male ragazzi Sapete ci vuole far soffrire Io lo so Ma perché non la finisce infatti Stef? Perché ci vuole far soffrire Quello è il bello Ah è quello ok Capisco Ahia campione Dimmi Tieni Ti stiamo divertendo qui eh Io un sacco Stai un sacco di ridate Eh amore Ho un bel risattone d'amici questi sono eh Ma che cavolo fate lì? Non lo so E insomma Porca miseria Dove sei schifoso? Si nasconde nel buio lui capisci? Lui è proprio Guarda eh Marcella la zona riftata Ragazzi io sono disperato Anche io tantissimo Aiuto Cosa mi è partito? Perché non ho mai l'arma giusta? Che sono sempre in disordine Si ho uscito Stef che bello Oh mio Dio Oh mio Dio Questo è stato terribile Corro Stef vuoi finire la partita? Finiamola Scusatemi per l'urlo di prima ragazza Mi sono trovato Fere Porca miseria mi ha fatto venire un infarto Ma certo che Chi trova il rift C'ha veramente una sfiga Ma scusate Noi ci stiamo mettendo una vita A stendere di punti Come ci senti ha fatto Stef a farne Perché ha camperato un'ora e mezza Porca miseria Mi prendo attraverso i muri ragazze E' quello Vabbè io 700 punti li ho fatti dai Sono contento così sinceramente Ma anche io un po' ne ho fatti Non pretendo niente di più Diciamo che Stef se avesse fatto il bravo Ci avrebbe arato Però vabbè Va bene Va bene Ok Eliminazioni 44 Siamo dati leggeri comunque Io ti picchio Sono d'accordo Spero che vi sia piaciuto Almeno a voi Sotto comparino altri Iscrivetevi al canale Ciao Ciao